Schermo, pasti parte inferiore per quanto riguarda il Team Makers contro Ciki parte superiore per quanto riguarda il Team Clash Attenzione, attenzione, ottimo qui Barile Barbarico Vai Va a eliminare totalmente la gang di Goblin e risponde per le rime Ciki che prova a ripartire con questi pipistrelli Stima Scalzoni Ottima difesa, ottima difesa Ciki mortaio, proprio te lo dico così Eccolo, guardate il Goblin, guardate il Goblin Lo avevi annunciato, lo avevi annunciato che l'avremmo visto, non ti smentisci Guarda, assurdo, assurdo, sta dietro il ponte lì, tranquillo, leva una capanna da solo È una truppa veramente fondamentale, anche perché ricordiamo che costa solo 3 di Elisir È molto molto veloce, colpisce dalla lunga distanza, quindi Ciki saprà sfruttarlo sicuramente al meglio E come dicevi, eccolo qui, il mortaio, ricordiamo che Ciki è uno dei migliori giocatori per quanto riguarda il mortaio A livello competitivo Sì, i deck Siege in generale Molto più bravo con Arco X Ricordiamo che il Siege deck sono tutti quei deck che giocano una struttura spesso offensiva Ovviamente a ponte perché permette di arrivare tranquillamente a torre Molto molto offensivo Ciki in questo momento che sta rubando letteralmente a colpi di Minatore Il punti ferita alla torre di Pasti Vedremo se continuando così riuscirà chiaramente ad arrivare in fondo Ottima qui la Firewall Il posizionamento del mortaio anch'esso ottimo Dovrebbe arrivare a prendere anche un hit a torre Perfetto, ha tolto di mezzo la rete della battaglia E qui con la gang di Goblin Limita i danni Anche se il Drago elettrico Avete visto, con un colpo ha tolto gli unici due Goblin che davano fastidio al Drago Sì, esattamente Però da parte sua Ciki con quei due Goblin fin di vita è riuscito comunque ad arrivare a torre E è riuscito comunque a fare danno Però Pasti in un solo attacco sulla linea di sinistra L'ha pareggiata Sì, sì, sì Per carità Vediamo adesso come deciderà il buon Ciki di proseguire questa partita Tanto l'immortaio che dà sempre una mano Arriverà il Goblin Vediamo, eccolo Pipistrelli sulla macchina volante Aspetta un attimo Che qui Pasti forse sta trovando la chiave giusta per affrontare questa partita Qui c'è un push davvero davvero buono in arrivo Aia, questo ha fatto malissimo E qui si mette benissimo per quanto riguarda Pasti Che sta per andarsi a prendere la torre E dunque 1-0 per quanto riguarda Pasti Che deve solo gestire la difesa in questo momento Guarda quanta aggressività sulla torre centrale per quanto riguarda proprio Pasti Addirittura in mezzo alla borsa Sì, si è portato a casa Grande Pasti Avete visto ragazzi? Una giocata giusta Ed è riuscita a passare Ha avuto una retta da battaglia che è riuscita ad arrivare a torre E con tutta la doppia macchina volante che ha eliminato con gli sgherri Il mortaio Davvero notevole Davvero notevole Pasti, come si dice È sul pezzo Eh sì Non ne sbaglia più una Direi proprio di sì Comunque sì, la ripartenza che avete visto Per questo questa tipologia di deck è chiamata bridge spam Perché tu spammi Ovvero accumuli truppe al ponte Per sorprendere l'avversario Ed è proprio quello che è accaduto in questa partita Esattamente Un fattore fondamentale è quello di far arrivare la rete da battaglia Con la sua carica a torre Sì, sì E non ha potuto fare niente Cicchi ovviamente Piazzando il mortaio che va ad attirare a sé Proprio la carica della rete da battaglia Ha devastato la torre con tutto il resto Ha giocato perfettamente Ah, ma quella Fireball è stata decisiva Quella Fireball, no Quella Fireball, quella palla di fuoco Attenzione, nuova carta in arrivo Cosa ci stai dicendo? È una palla di robot Ci dicevo, scusatemi Quella palla di fuoco in semi-predict Perché in realtà stava andando a togliere di mezzo altre truppe E si è trovato a colpire anche ovviamente i mascalzoni Gli ha praticamente regalato la torre Sì, sì, sì Perché Cicchi aveva già speso 5 di risir per i mascalzoni Che si è ritrovato con 5 di risir Che non potevano più difendere da truppe aeree E quindi È andata così È andata così Bravo Pasti Bravo Pasti comunque A momenti dovrebbe partire il secondo match Che speriamo non sia l'ultimo Speriamo di no Dai, fammi una predizione su cosa usano So che sei forte sulle predizioni Ci sto pensando Io Pasti mette il pecca E Cicchi Mastino E io invece secondo me Pasti andrà a giocare un mastino E Cicchi non ne ho idea Ah, se dicevi pecca guarda Ma io posso dire Io vorrei tanto vedere Cicchi Usare il suo scheletro gigante Il suo deck Pazzesco Con cui ha strappato molte 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 vittorie in passato Vediamo Beh, adesso vedremo se ci smentiranno o meno Vabbè aspetta Potrebbe essere pecca per Pasti Non può essere assolutamente pecca Mastino per Cicchi Vedremo se Più che altro Sarà un Mirror Vedremo Attenzione Eccolo qua Attenzione Che poi non è neanche pecca Intanto doppia capanna Ovvero una per quanto riguarda Cicchi E una di Pasti Fondamentale è la macchina volante di Pasti Che va all'eliminare totalmente Guarda pure unità torre così tanto per Ma perché di Pasti Se l'aveste giocata qualcun altro Non avrebbe avuto quella ferrucia Intanto tre moschettieri splittati dietro la torre centrale Per quanto riguarda Cicchi Ottima qui La palla di fuoco Ottima qui E adesso deve difendere però dall'altro lato Vedremo se ci riuscirà Arriva alla riete Questo è il classico Classico Attacco Da Brinchbaum Dove dai valore al moschettiere da solo Perché l'avversario tende a difendere i moschettieri Dall'altro lato Che essendo due sono più pericolosi Che difesa Sì è perfetta Pasti È diventato una macchina Sì Una macchina Sì sì Gli avranno Gli avranno fatto il cambio di anima Ecco Si sarà Surgical Goblin Si sarà impossessato Del corpo di Pasti Perché non ho Non ho altra spiegazione Di questo player Ovviamente scherzo Complimenti per il duro lavoro Che sta Sta effettuando Pasti Per appunto Aumentare il proprio livello E direi che questo lavoro Sta proprio dando i propri frutti Vabbè Non scherziamo Cioè il livello È sempre stato altissimo Però adesso proprio Gioca perfettamente È cresciuto molto Gioca perfettamente È innegabile questo Vedremo se riuscirà Ovviamente a strappare Il 2 a 0 Per quanto riguarda Questo match Contro Ciki Vediamo Arriverà nuovamente la Fireball Molto probabilmente Dall'altra parte Lo sai che forse Eccola C'era troppa value Dall'altra parte Ciki dovrebbe andare Comunque a caricare Ma a questo punto Credo di no Credo di no Perché E vabbè Ariete che viene Divorata E adesso Anzi Pasti Ora ha una ripartenza Assurda Per questo dicevo Non metterà L'Ariete Non è stata una Fireball Eccezionale Dato che comunque Pasti ha la Fly Machine È qui ragazzi È praticamente Torre Aspetta il minimo errore Da parte dell'avversario In questo caso È stata più una Una sorta di disattenzione Per Per punire E niente Pure stavolta Ci hanno tolto La gioia Dell'1-1 Ma è un complotto Assolutamente Ovviamente 3-0 Regalato Dato che Ciki non poteva più Fare nulla Si è praticamente Arreso Tra virgolette L'unico errore Era quello appunto Di provare magari A difendere Piuttosto che Cercare di attaccare Sì Al cercare di mettere Forse pressione Al momento sbagliato Cioè Quanto è durata L'Ariete Mezzo secondo Esatto È stata una di quelle Ariete da battaglia Per quanto riguarda Ciki E La palla di fuoco Sempre di Ciki Sono state le due giocate Che hanno compromesso La partita Perché Giocando un 4-4 Si è trovato Prima di senza elisir Con una macchina volante Drago infernale Il fantasma royal I barbari Della rete da battaglia Di pasti E non ha potuto fare nulla Anche perché Era senza elisir Peccato Forse Un po' troppa Aggressività Nel momento sbagliato Sì È quello Eccesso di foga Sì Possiamo dirlo così Possiamo dirlo Possiamo dirlo Magari voleva Portare via Qualche truppa Con gli eretti Da battaglia Sperava magari Di superare Di qualche spot Di qualche casella In più In modo da fare Indietreggiare Magari Il fantasma royal Piuttosto che Altre truppe di pasti Così non è stato E questo Ha compromesso La La sua partita Ovviamente Noi gli auguriamo Il meglio Sì ovvio Sportività Anzi I sportività Sempre a livelli massimi Dovremmo esserci Con il Prossimo match Come si cambia Caster Perché Ti faccio divertire Lo so Lo so Lo so Il prossimo Il prossimo match Jesus contro Griggs Ai 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 Gli Outsiders E qui Che non sono più Outsiders Ormai sono Sono nomi confermati Ormai E qui Se ne daranno Di santa ragione Secondo Io voglio deck strani Quindi per piacere Fate Che ne so Domatori Boscaioli E tanto che non si vede Un domatore L'unico domatore che si vede Nel deck Con il pecca Sì In ladder Ogni tanto Eh lo so Lo so C'è un mortaglio Domatore Che è bello Eh sì Bello fastidioso In ladder c'è ancora qualche pazzo Che gioca Domagelo Ci sarà mai Questo matto Ogni Ogni riferimento è puramente casual Questo matto Ogni riferimento è puramente casual Peccato che Purtroppo Questi tipi di deck Come i classici No? I grandi classici Come il domagelo Piuttosto che Il gigante dopo i principi Che è entrato In sequenza Quando sono usciti i principi Guarda io ti dico Pecca Double Prince Te lo ricordi Che bello Quello frecce Gelo Pecca Doppio principe Che feels Che ricordi Anche Cimitero Gelo Regalava belle soddisfazioni Cimigelo Le regalava solo a te Ronny Però Tanti di quei deck Che sono andati Un po' persi Per quanto riguarda La scena competitive Ovviamente ricordiamo Che il gioco È in continuo aggiornamento Le carte Sono in continuo aggiornamento Ovviamente Alcuni tipi di deck Vanno Chiaramente A sparire Da quello che è il meta Ricordiamo che il meta È tutto quel gruppo di deck Più utilizzato Per arrivare Chiaramente Alla Alla vittoria Lo sai forse Proprio il punto di forza Di clash royale È quello che è in continuo movimento Assolutamente sì Per ora Non ci sono stati momenti di noia Beh non ti puoi annoiare Come dicevi Io non mi sono Cioè sinceramente ragazzi Io gioco dalla release Proprio dal giorno 1 Non ho mai provato noia Nel guardarlo Nel giocarlo Neanch'io Noia Allora ho provato noia Nel giocarlo Nel senso Frustrazione Nervosismo Perché devi essere Bello concentrato Devi essere molto calmo Io L'esatto opposto Però non ho mai provato noia Nel guardarlo Infatti Faccio caster Streamer Proprio perché mi piace farlo E quindi secondo me È uno di quei giochi Che ci accompagnerà Nei prossimi anni Speriamo Se Supercell Continua a lavorare In questo modo Dando sempre Ringiovanendo sempre il gioco Ad ogni aggiornamento Ad ogni piccola modifica Ne vedremo delle belle Sono Sono assolutamente D'accordo con te Ti stavo dicendo appunto Io Non mi sono mai annoiato Ma tante Tante arrabbiature E voi mi capite Che state guardando Anche voi Le avete provate Di sicuro Sono sicuro che appunto I sentimenti sono gli stessi Ma Abbiamo ancora una piccola pausa Torniamo tra pochissimo Inchiodatevi al divano A tra poco A tra poco